Mie carissimi, per me è una grande urgenza, l'urgenza dell'annuncio della parola di Dio è quella parola che illumina la nostra mente, ci dà la capacità di discernere ciò che è giusto, ciò che è vero fare delle scelte che siano conforme alla nostra dignità umana per questo è molto importante la lezione divina con la lezione divina noi superiamo tutte le difficoltà perché ci viene data una strategia di individuare ciò che è buono e anche gli agguati che vengono presentati giorno per giorno il libro della Sacra Scrittura e il libro educativo ci previene, previene e ci fa sapere quello che accadrà in tempo per evitare disastri e devo dirvi il mio cuore è ferito come saggiatote e tutti i saggiatoti siamo feriti dinanzi a questo cammino come degli ubriachi come gente senza una responsabilità con l'autoreferenzialità che disturba e distrugge il nostro cuore per questo abbiamo pensato che questa comunicazione si possa utilizzare bene oltre che Instagram anche YouTube in questo noi troveremo una miniera per consolare, comportare, per sostenere la nostra debolezza la nostra fragilità, il nostro cuore si dilata ho osservato la tua parola, ho messo in braccio la tua parola e hai dilatato il mio cuore, il nostro cuore ha bisogno di essere così grande abbracciare il mondo e solamente la parola di Dio ci dilaterà questo nostro spirito il Signore veramente ci custodisca, ci difenda dobbiamo superare le difficoltà solo con l'alezione divina noi possiamo fare una storia nuova una dimensione nuova, un cuore nuovo e un spirito nuovo il Signore ci benedica, ci custodisca e ci dia fame e sete della sua parola grazie a tutti 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 grazie a tutti